Con l'approvazione di questo regolamento vengono introdotte disposizioni che faciliteranno i proprietari nello spostamento dei loro animali da compagnia tra Stato e Stato dell'Unione e diminueranno i rischi sanitari pubblici animali. Le nuove regole inoltre ostacoleranno chi fraudolentemente effettua il commercio di animali da compagnia, in particolare cani e gatti. Tra le principali novità il regolamento prevede tra l'altro che il microchip a garanzia della tutela degli animali venga applicato esclusivamente da un veterinario o persona qualificata e che i documenti in bianco siano detenibili solo dai veterinari, cioè al fine di evitare contraffazioni dei documenti. Ci sono però anche disposizioni che se non controllate a dovere potrebbero creare problemi, come le deroghe previste per chi vuole spostare un numero di animali superiori a 5 e quelle sulla vaccinazione antirabbica e le autocertificazioni dei proprietari. Si poteva fare sicuramente di più, manca ancora un sistema uniforme di registrazione compatibile e accessibile in tutti gli Stati membri. Sarà fondamentale vigilare sugli Stati membri monitorando costantemente l'applicazione di queste nuove norme per evitare truffe e abusi. Grazie.